Ciao a tutti, da Argomenti la voce dei cittadini ci troviamo con Roberto Pucci, Presidente della Protezione Civile. Roberto, oggi è un grande evento, 30 anni della Protezione Civile, la quale bisogna riconoscere che svolge un ruolo incomiabile nella città di Frascati, ovviamente in tutta Italia. Oggi, diciamo, è la festa della Protezione Civile nella città di Frascati. Roberto, sei il Presidente, tutti riconoscono il tuo impegno, la tua dedizione d'umiltà per la città di Frascati. Consentimi di sottolineare che a volte sei stato chiamato anche in piena notte e ti sei alzato immediatamente per dare servizio alla città. A te la parola, Roberto. Il volontariato è anche questo, soprattutto questo. Noi oggi festeggiamo 30 anni di attività del gruppo, sono 30 anni che stiamo a disposizione dei cittadini. Abbiamo iniziato, come si dice a Frascati, con una scatenata ciavanta. Vedete voi adesso il volontariato. Vedete che immagini, che mezzi la Protezione Civile ha? È una cosa emozionante. Ecco, sottolineiamo ancora una volta che è tutto volontariato. Sì, solo e esclusivamente volontariato. È vero, sono mezzi anche acquistati con i fondi che ci dà la regione, ma soprattutto sono le associazioni in privato che formano queste macchine, le preparano per dare un servizio ai cittadini. Alla comunità. Allora, Roberto, 30 anni sono tanti, il futuro altri 30 anni come minimo sotto la tua guida. Io spero di sì, anzi anche di più, diciamo 50. 50. Allora, Roberto, veramente complimenti e come si dice auguratevi veramente una giornata di divertimento perché è la vostra festa e un grazie di cuore per quello che fa dalla città di Frascati. Grazie, grazie Mirko. Grazie, grazie.